Non sappiamo cosa sia successo. Ho trovato mia madre così, per terra, quando sono tornato dall'allenamento. Subito dopo è arrivato mio padre e poi la donna delle pulizie, Teresa. Abbiamo chiamato di corso un'ambulanza, ma ormai era troppo tardi. Mamma era morta. È terribile. Chi poteva volerla uccidere? Forse si è trattato di un ladro? Dovremmo controllare se manca qualcosa in casa, non crede?